E infatti sarà la cascetta del divertimento a Miami, è la cascetta dei carti e ci sono anche tanti beats in town qui a Miami e infatti andiamo a cena con Dennis, ebbene sì, Dennis Rodman, una leggenda dell'NBA del basket e non si è perso un passo suculento al Joe Stone Club a Miami Beach lo scorso fine settimana con un entourage di mezzo di ordina di uomini e praticamente il Joe Stone Club è uno dei ristoranti di pesce più buoni di Miami ed è anche il più vecchio Grazie a tutti